Si è svolto questa mattina presso l'hotel Falcone di Vieste il secondo dei due incontri del primo seminario di formazione Web for Tourism, corso di formazione pratica e teorica per gli operatori turistici e appassionati di web marketing, organizzato da Gargano Eventi. Il seminario, incentrato su alcune tematiche come il web advertising e il social media marketing, è stato diretto dal dottor Alessandro Mazzu, docente e specialista di web marketing e responsabile presso alcuni master privati e universitari a Roma e Napoli. Abbiamo iniziato ieri parlando dei siti web, parlando del SEO, parlando della ricerca su Google. Oggi ci stiamo focalizzando sull'advertising, poi parleremo di social media marketing e main marketing, quindi cercheremo di dare una panoramica a 360 gradi di tutto quello che è il web marketing. Quali sono i fini per gli interessati e i partecipanti al corso? Mi auguro che dopo questi due giorni le persone avranno una maggiore conoscenza degli strumenti del web e quindi sarà per loro più semplice capire come utilizzarli al meglio per ottenere l'obiettivo prefissato. Il corso articolato in due giorni, della durata complessiva di 16 ore, è il primo degli eventi organizzati dall'Associazione Gargano Eventi per lo sviluppo del turismo sul territorio garganico. Questo primo corso di formazione nasce dalla necessità di tutelare e valorizzare la cultura, l'arte, il divertimento, l'eno-gastronomia e tradizioni del territorio garganico in vista di una larga diffusione di questa sua ricchezza attraverso i nuovi media. Sicuramente è un'esperienza molto interessante, ci ha dato la possibilità di capire di più quelle che sono le potenzialità del web e del marketing applicato al web stesso e di questo ringrazio Gargano Eventi perché non sempre, anzi quasi mai, a Vieste si possono cogliere opportunità di questo tipo. Abbiamo capito che è vero che tutte le strutture turistiche possono investire sul web e fare il marketing, ma spesso, anzi credo quasi sempre, almeno nel mio caso, ci affidiamo degli esperti. Oggi attraverso questo corso abbiamo la possibilità di capire anche quali sono gli strumenti, come controllare il lavoro dei nostri esperti e come magari attraverso altri corsi ed altre esperienze e cimentarsi in maniera diretta. Io credo che questa iniziativa sia di notevole importanza. Il nostro territorio ha bisogno di queste iniziative, ha bisogno di promuovere queste attività proprio per dare un impulso al nostro turismo, al nostro settore. Un buon numero di partecipanti testimonia come l'interesse e l'attenzione verso lo sviluppo e la promozione del territorio locale da parte dei giovani imprenditori viestani attraverso i canali multimediali si è in continuo aumento, prevedendo quindi una sempre più crescente partecipazione ai prossimi incontri formativi. Le ho trovate molto interessanti, adatti comunque alle nostre necessità, perché comunque siamo tutti operatori ed imprenditori turistici che abbiamo bisogno comunque di formarci e di migliorare. Abbiamo bisogno di confrontarci, perché comunque è dal confronto che si migliora quello che già si ha e quindi io sono molto entusiasta di questa esperienza e di questa iniziativa, assolutamente. Molto interessante e piacevolmente sorpreso di scoprire che c'è un'associazione come quella di Garganaventi a Neonata che promuove questi tipi di iniziative per noi, diciamo, garganici nuove e molto molto utili, perché sono nozioni che, come diceva la collega prima, non ce ne è mai abbastanza, bisogna sempre approfondire per sapere e conoscere meglio il nostro stesso lavoro. È una piccola dimostrazione che comunque bisogna camminare insieme, a prescindere dai soliti staccati e paletti, per riuscire a trovare nel dialogo tra Peschici, Viesti, Rodi e via discorrendo, una sintesi che possa fare una fronte comune, quindi come un'unica voce, verso l'esterno, verso anche i nostri ospiti che poi ci scelgono e sono la nostra pubblicità, insomma. Il web è fondamentale per il settore turistico e quindi conoscerne le dinamiche porta grossi vantaggi che si traducono in aumento di fatturato. Le prenotazioni si fanno quasi sempre online, compreso il pagamento. L'utente, prima di scegliere la struttura, guarda il sito e le recensioni sui vari portali, come TripAdvisor. Attraverso i social, l'utente condivide foto della struttura e o della località e quindi di conseguenza ne fa pubblicità presso i suoi contatti, fan, amici e conoscenti con i quali interagisce su Facebook, Twitter e Google+.